Senti, senti, è arrivato il più grande sciupa femmine d'Oriente. È vero, lui le apprende le sue piccia, le usa e poi le ammutta! Principia lì, non vorrei passare davanti a tutte quelle che hanno il numero etto e fanno la pila per voi. Dunque potete tornarvene laggiù da dove venite, perché io davvero non sono al vostro livello. Signori! Sua fuoribondezza si defila! Ci risiamo, non l'ha degnato nemmeno di uno sguardo! Vedo, mari mossi e localmente agitati! Su altitudine, principessa, non volevo! Non è da me, io sono un principe! Porca miseriaccia!